Ragazzi abbiamo un problema e questo problema si chiama Xiaomi, nello specifico oggi il problema si chiama Xiaomi Mi 10T Pro Abbiamo un problema, abbiamo un problema perché se Xiaomi non si ferma, se Xiaomi non la smette, non saprò veramente più come fare Avrò un problema io nel provare tutti questi telefoni che non voglio tenervi sulle spine dicendovi lo saprete a fine video, ve lo spoilerò subito Anche questo è un ottimo prodotto per il prezzo a cui viene venduto, beh quindi avrò un problema io a continuare a recensire prodotti che sono tutti, non dico Best Buy perché non sono spiccioli Ma ci si avvicina, avrete problemi voi che dovrete scegliere un nuovo smartphone che possa essere diverso da uno Xiaomi e avrà sicuramente problemi la concorrenza a riuscire a tenere testa a Xiaomi Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, non credo personalmente di essere esagerato in queste conclusioni ma fatemi sapere cosa ne pensate Se siete passati qui per caso e non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e andiamo a scoprire Mi 10T Pro Partiamo quindi dall'unboxing, iniziamo a spacchettare la confezione di Mi 10T Pro Apriamo la confezione, nera con chiara indicazione del suo nome, con chiara indicazione che c'è una fotocamera da 108 megapixel C'è subito una scatolina all'interno che ha delle cose molto interessanti, c'è il pin per aprire il carrellino, ci sono i manuali ma c'è anche l'adattatore da USB-C a jack audio Che devo essere sincero non è una cosa che ormai si trova più così spesso e poi una cover ma voglio farvela vedere subito Questa è una cover in silicone quindi è morbida, ha la particolarità di essere esagerata nel senso che nel caso qualcuno dei vostri amici ancora non lo sapesse Beh, una volta che avrete messo questa cover tutti i vostri amici sapranno che avete appena acquistato Qui c'è un QR code che ovviamente potete levare, che avete appena acquistato uno smartphone di Xiaomi Io non sono un grandissimo fan delle cover, anche se questa bizzarra la trovo particolarmente curiosa e quindi l'ho utilizzato senza in tutta la sua bellezza Ma andiamo oltre, all'interno della confezione c'è il cavo USB-USB tipo C e lo devo far uscire ribaltandolo così L'alimentatore, alimentatore comporta USB-A, non USB-C, alimentatore da ben 33 Watt Non indugiamo oltre e andiamo a scoprire lo smartphone Eccoci qui quindi a scoprire questo Mi 10T Pro 5G Se vogliamo aggiungere anche questa indicazione, ormai superflua ma presente in moltissimi smartphone Nel loro nome, questo è il Mi 10T nella sua finitura in vetro antiriflesso Effettivamente riflessi non ne fa ma specchio, specchia tantissimo Curvo sul bordo, molto bello che è molto simile a quello che avevamo visto anche sul Mi 10T La finitura è simile, la finitura ha tra virgolette un problema Che è quella che quando viene utilizzato a lungo poi inizia a trattenere le impronte Ma come vedete appena pulito riesce a mantenersi abbastanza pulito ancora un pochino a lungo Lo vediamo con il frame in metallico, in metallo, il tasto di accensione con il lettore di impronte digitali all'interno Bilancele del volume, sopra, tagliato, il profilo tagliato Secondo microfono e abbiamo qui la porta di infrarossi Totalmente pulito il lato sinistro e sotto abbiamo primo microfono Speaker subito a fianco, la porta USB-C e il carrellino per la doppia nano sim È uno smartphone dual sim Sul retro appunto molto bello, trattiene un po' le impronte Non è sottilissimo, sono 9,3 mm di spessore E ovviamente a questo contribuisce, a questo blocco delle fotocamere Che è un po' sporgente e lo si vede Lo smartphone però è splash proof, quantomeno Quindi in una pioggerella potete usarlo senza grossi problemi Dimensioni, 165,1, 76,4 Non è uno smartphone compatto, vi ho detto che non è sottile Ma non è neanche leggero perché sono 210 i grammi di peso Quindi ho toccato troppe volte per errore il lettore sul fianco E si era andato in protezione Lo sblocchiamo e lo mettiamo di fianco Prima di dirvi che comunque ovviamente è uno smartphone che è importante in termini di dimensione e di peso Tenetene di conto assolutamente quando andate a scegliere Lo so che molti di voi non sopportano dimensioni eccessive Il processore è uno Snapdragon 865 octa-core da 2.84 GHz con GPU Adrenos 650 Quindi praticamente quasi il top della gamma Ben 8 GB di RAM LPDDR5 128 256 GB di memoria interna UFS 3.1 addirittura Connettività 5G, Wi-Fi 6, quindi Wi-Fi X, Bluetooth 5.0 C'è il chip NFC, c'è il supporto dual sim, c'è la porta infrarossi, non c'è il jack audio C'è un motore per la vibrazione molto preciso e molto gradevole devo dire nell'utilizzo quotidiano Il lettore di impronte digitale vi faccio vedere che funziona benissimo Ma soprattutto è veramente velocissimo, è veramente precisissimo A volte anche al contrario se voi vedete lo sfiorate così non cambia nulla Voi lo sfiorate per una frazione di secondo con una parte del vostro dito e lui si sblocca È veramente sensazionale Voi appunto lo prendete, state attenti a dove lo prendete perché se lo prendete così lo andate a sbloccare Il lettore di impronte veramente eccellente Fotocamera nel foro che supporta lo sblocco 2D Ovviamente non particolarmente sicuro perché non è quello 3D Come vi dicevo non c'è il jack audio per le cuffie Purtroppo eredita anche questo dal fratello Mi 10 Ci sono molte le cose che ereditano dal fratello Mi 10 Una delle cose più diverse però è sicuramente il display Che ha delle cose in meglio, delle cose in peggio se vogliamo È sempre un 6,67... mi sto strozzando, scusate Un 6,67 pollici di diagonale Full HD+, quindi 1080x2400 pixel Con la fotocamera nel foro, quindi non più come il Mi 9T dove la fotocamera era pop-up Diciamocelo chiaramente, questo con la serie T dello scorso anno ha molto poco in comune Si è scelto il nome giusto per dare una continuità a una serie Ma secondo me non ha moltissimo a che vedere con il Mi 9T dello scorso anno, Mi 9T Pro Lo schermo è piatto, lo schermo è IPS Non è quindi un AMOLED, forse lo avete intuito dal fatto che il lettore è sul fianco E spesso in questi casi è sul fianco perché non può essere messo all'interno del display Perché non è un AMOLED Non c'è quindi l'always on display, ma il display, devo dire, è molto molto bello Ottima luminosità massima, ottima luminosità minima Angoli di visione buoni, non saranno eccezi come quelli di un AMOLED Ma devo essere sincero, nell'utilizzo quotidiano non mi ha affatto dato problemi I neri non saranno assoluti, ma anche qui non è stato un vero problema Diciamocelo, l'AMOLED offre prestazioni superiori, sì Ha anche qualche problema in più, sì Ovviamente se vogliamo guardare la frittata rigirandola dall'altra parte La cosa interessante è che c'è la frequenza di aggiornamento addirittura a 144 Hz Si possono scegliere i 90, si possono scegliere i 60, devo essere sincero Secondo me 90 può essere una buona soluzione per andare un po' a risparmiare energia Ma la cosa interessante, qui lo si intuisce leggendo questo paragrafino È che il refresh rate è variabile È variabile in automatico, solo le app, le funzioni che supportano i 144 Hz li sfrutteranno Altrimenti si scala a valori inferiori Difficile dire quando va a 90, 120, 144 Non so quali siano poi gli step intermedi, devo essere sincero Sicuramente c'è un'enorme fluidità dove tutto sembra effettivamente scorrere in modo piacevolissimo Voi non potete vederlo dalla ripresa perché non sto registrando a 144 fps, giusto per dire Ma è veramente un bel display Non è un AMOLED ma è molto buono Supporta l'HDR10, c'è un Gorilla Glass 5 protezione Spazio colore P3 Nuova Reading Mode 3.0 che mi piace molto perché è totalmente personalizzabile Con la possibilità di avere una grana effetto carta oppure classico La grana effetto carta non lo vedete nella ripresa ma mi piace moltissimo E poi potete personalizzarla e scegliere per esempio di avere l'effetto bianco e nero Che secondo me è molto gradevole per andare a leggere i libri la sera Se questa è una cosa che potete fare con il vostro smartphone Quindi per me lo schermo è promosso, non è un AMOLED Beh, questo è un dato di fatto Leggerissimo alone attorno al foro della fotocamera Che è più piccolo di altri smartphone di Xiaomi C'è un leggero alone come in tutti gli IPS Il software è Android 10 personalizzato con ovviamente l'ultima MIUI 12.04 in questo caso Abbiamo le patch aggiornate a settembre L'ultimo software Xiaomi che offre tutto quello che il software Xiaomi offre fino ad oggi La MIUI ha offerto fino ad oggi più delle novità Allora non starò a scavare a fondo Ovviamente l'interfaccia ve la faccio vedere Scorro un po' in giro nei menu Vi faccio vedere le varie funzioni È quella della MIUI Se siete amanti di Android Stock Ovviamente non è esattamente quello che stavate cercando Una cosa che però voglio farvi vedere Perché non ve l'ho fatta vedere in altri video Ed è interessante farvelo vedere qui Sono le funzionalità di app in finestra Andando nel multitasking e tenendo premuto potete spostare l'applicazione in finestra Potete ridimensionarla Potete mandarla full screen O scusate mandarla full screen verso il basso O chiuderla verso l'alto Vi faccio vedere anche un'altra cosa Perché dal multitasking potete fare direttamente questo gesto Verso l'angolo in alto a destra L'applicazione rimane lì flottante pronta per essere aperta Se tappata viene aperta in finestra E poi se volete potete chiuderla Una delle cose che non ve l'ho fatto vedere Ci sono i temi C'è il software della sicurezza C'è il secondo spazio Il game turbo Le app clonate C'è anche un po' di pubblicità Quando voi installate un nuovo software Possiamo anche farlo al volo Visto che non ve lo faccio vedere spesso E allora andiamo a prendere qualcosa di un pochino più piccolo Di un gioco molto capiente Andiamo a installare la photoshop camera Vi faccio vedere quello che succede Per esempio nel software che va a verificare Che il software scaricato sia sicuro C'è una pubblicità all'interno Non è il massimo Ci sono dei modi per bloccarla E' un po' tra virgolette Eccolo qua Il prezzo Tra l'altro non sono neanche mai molto sensate Cioè orologi brutti in russo Cioè perché Vabbè è sicuro Potevi chiuderti No lo fa così per farci vedere la pubblicità E' tutto accettabile Basta saperlo Sono cose che però vanno sapute E' giusto Chiarirle Andiamo a guardare il modulo delle fotocamere Allora allora Vi sembrerà un modulo a 5 fotocamere? No non lo è Non è a 5 fotocamere E voi direste Eh no c'è un flash E' vero c'è un flash Allora è a 4 fotocamere No non è a 4 fotocamere È a 3 fotocamere Perché Questo forellino qui Non è niente Vedete Questa Questa ghiera luminosa Non è niente Serve a far finta Di avere un modulo a 5 fotocamere Allora io mi domando Non si poteva fare a 3 E magari un led flash qui centrato Non lo so Ha fatto stack E volevano farlo così di design Ma le fotocamere sono 3 Questa è la principale La 108 megapixel Abbiamo poi Una grande angolare da 13 megapixel E una macro da 5 megapixel f2.4 Cose interessanti La 108 megapixel E' un f1.69 Stabilizzato otticamente E' anche interessante il fatto Che la macro ha l'autofocus Usa la messa a fuoco Cosa che solitamente non c'è Praticamente mai E complica un po' La funzione del sensore macro Che comunque rimane a 5 megapixel Cioè non è che potete farci grandi cose Questo è il sensore a 108 megapixel Con le foto scattate rapidamente C'è anche il tasto per lo zoom Che però è un'interpolazione Perché non c'è una fotocamera zoom C'è ovviamente anche Eccolo qua Il tasto per andare a guardare Le foto con l'effetto Con l'effetto grande angolare Del sensore grande angolare HDR Impostato in questo caso In automatico Funzione intelligenza artificiale C'è il ritratto C'è la modalità pro Con possibilità di attivare Lo scatto a 108 megapixel Quindi anche in modalità pro Qui non si può attivare 108 megapixel Ma se andiamo su altro C'è la voce specifica Per scattare in automatico A 108 megapixel Quello che succede Ovviamente perché altrimenti Scattate con un'interpolazione Che secondo me E' comunque la soluzione migliore Il campo La profondità di campo E' veramente notevole Di questo sensore Quindi guardate Se io mi metto così Come qua dietro L'androidino Guardate il mio dito Come sia già tutto sfocato Come sia sfocato anche Se lo metto qui sotto Il punto di messa a fuoco E' molto preciso C'è un campo Un campo molto Un campo molto ristretto Scusate Di messa a fuoco Modalità ritratto In altro abbiamo La modalità notte Potete comunque premere su Modifica E andare a spostare Per esempio La modalità notte Tra quelle che usate di più Che è sicuramente più comodo Simpatico Molto simpatico La nuova funzione Clonea Che però funziona solo Con Ah no Funziona anche con gli oggetti Vediamo Vediamo No funziona Funziona solo Perché ha visto la mia mano Vediamo se io tappo Sull'oggetto No non lo vede Funziona con le persone Comunque vedrete poi Dei sample E permette sia in foto Che in video Di clonare Le persone Nelle foto E anche abbastanza standard Nelle video Invece è una bella Novità Ma basta che anche ne andiamo a vedere Come vengono le foto Perché Allora io sono uno di quelli Che ha apprezzato molto La qualità fotografica Di Mi 10 e Mi 10 Pro Mentre invece ho letto online Di un sacco di commenti Molto poco entusiasti Su questa fotocamera Io invece Sarà che non sono esagerate Sarà che non sono super contrastate O super nitide Ma sono delle buone foto Lo state vedendo Guardando scorrere le foto Il bianciamento dei colori è giusto Il dettaglio c'è Insomma Non sono delle cattive foto Forse l'HDR È un po' poco incisivo Rispetto Ad altri smartphone Ma Secondo me Soprattutto su Questo modello Che costa meno È una fotocamera Assolutamente degna Della definizione Di top di gamma Tra l'altro appunto È anche stabilizzato Otticamente Anche la grande angolare Non è male Vi ho già dato Una considerazione Sulla Sulla macro Che Sono 5 megapixel Per quanto buona possa essere Ovviamente Moltissimo dettaglio Non ci potrà Mai essere La fotocamera frontale Una 20 megapixel F2.2 Insomma Alti e bassi A volte degli ottimi selfie A volte dei selfie Un po' meno buoni Secondo me Anche perché Anche qui l'HDR Non è esageratamente incisivo Ci sono delle foto Le vedrete con anche Degli effetti particolari Devo dire Xiaomi sta lavorando Molto bene Nell'inserire Dei nuovi effetti Software Funzionalità vlog Funzionalità clone E uno potrebbe dire Vabbè ok Ma sono tutte cose Che posso fare con altre app Non sono così interessanti Ma ormai Nel 2020 Lo smartphone È uno strumento di creatività Molto importante E avere queste funzioni dentro Sta iniziando a convincere anche me Che sono uno Che ero personalmente scettico Sull'avere queste funzioni Che le trovavo un po' Un po' inutili Negli smartphone Video Video in 8K O in 4K 60 In entrambi i casi La stabilizzazione ottica Si vede Quella elettronica È così così Non perfetta Video un po' tremolanti Meglio scendendo Ancora meglio attivando La modalità steady Quella in Full HD Molto interessante Il fatto di avere Uno zoom fluido Mentre si registra i video Andate a vedervi il sample Perché è molto interessante Audio stereo Non l'audio stereo Del Ah il Game Turbo Perché l'altra volta Non è partito Non è partito Non l'audio stereo Del Mi 10 In cui Gli speaker erano Sopra e sotto Ma comunque Un audio stereo Supportato dalla capsule auricolare Che è questa qui È piccolina Qui sopra il vetro Vabbè niente Mi sta riscaricando Tutti i vari dati Però insomma Un supporto audio Assolutamente gradito Che altrimenti sarebbe Rimasto solo Dalla parte inferiore Andiamo a testare Le performance Di gioco Attiva Contro L'intelligenza artificiale Alziamo il volume Il volume è nella media La qualità è buona Il volume è nella media Devo dire che Riesco a parlarci sopra L'avete sentito Senza dover urlare Ora partirà un volume Un po' più alto Perché poi In game Il volume è un pochino Più alto Ma Non è altissimo Appunto in termini di volume Ma è buono In termini di qualità Sentite appunto Vai vai Facci vedere Allora Molto bello Devo dire Vedete solo il forellino Che copre la scritta In basso a destra Ma molto bene Per quanto riguarda Gaming E altri contenuti Multimediali Perché Lo schermo è assolutamente Enorme E senza interruzioni Ottimo performance È un top di gamma Ora Non so perché Questa volta è partito Con il dettaglio medio Quindi Si può aumentare il dettaglio Che non deve essere questo Fermati Ok Usciamo Quindi Bene Per quanto riguarda Il gaming Audio Nella media Nel volume Buona la qualità Arriviamo a parlare Della batteria Che è una Corposa 5000 mAh E Lo dico chiaramente Nonostante il refresh rate A 144 Hz E Sicuramente Questo 144 Hz È sporadico Solo quando serve Adattivo Altrimenti gira a frame Non a frame rate Ma A refresh rate Più bassi È il motivo Per cui Questa 5000 mAh Non solo è una grande batteria Ma garantisce Un'ottima Autonomia Sempre superiore Alla giornata Intensa Ovviamente dipende Da cosa si fa Se si gioca a molti giochi Magari qualcuno Che credo siano pochissimi Ad oggi Che supportano Un 144 Hz Potrebbe durare meno Ma un giorno completo Sfido veramente A non farcelo arrivare Si può arrivare Secondo me Anche a 2 Bloccandolo a 90 Oppure Comunque Non facendo giochi O non facendo contenuti Che riescono a sfruttare Davvero Più di 90 Hz Quindi Da questo punto di vista Una batteria Che fa Bene 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 Nonostante il refresh rate Aumentato E vi ricordo anche Che in confezione È incluso L'alimentatore A 33 W Che Appunto È compatibile Con la ricarica rapida Di questo smartphone Valori SAR 057 testa 099 corpo Bene Siamo arrivati alle conclusioni Questo è Xiaomi Mi 10T Se siete interessati Prima che vi dica ancora Il prezzo Se siete interessati A eventuali offerte L'avete visto Sulla home screen Mentre facevo la recensione C'è La nostra Il nostro canale di Telegram Dove pubblichiamo Tutte le offerte Quindi Il prezzo Che vi sto per dire Forse l'avete intuito Visto che parlo di offerte Non è stracciato Ma quando lo dovesse diventare Lo scoprirete Trovate il link Nella descrizione Su YouTube E quindi qual è questo prezzo Il prezzo È di 599 euro Per la versione 828 E 649 euro Per la versione 8256 Se speravate quindi Nel prezzo Di Mi 9T E Mi 9T Pro Anzi di Mi 9T Pro Beh Sarete Sarete probabilmente Rimasti Un po' Delusi I motivi sono Vari Il primo Sicuramente È il fatto Che questo Non ha molto In comune Con lo smartphone Dello scorso anno È un prodotto Abbastanza diverso C'è anche il fatto Che lo Snapdragon 865 Lo sappiamo Ha aumentato Non poco I prezzi Degli smartphone Questo incluso Poi c'è il pannello A 144 Hz Insomma Non sto cercando Di giustificare Xiaomi È tutto per dire Che il prezzo È buono Ma non è stracciato Come quello Dello scorso anno Secondo me Il problema più grosso Non è il confronto Con il Mi 9T Pro Ma è più che altro Il confronto Con il Mi 10 Che è vicino ormai Con i prezzi di mercato A questo smartphone Questo dispositivo Però Ha varie cose Interessanti Ha la batteria 5000 mAh È dual sim Ha 144 Hz Le memorie più veloci Ha lo schermo piatto Non ha la ricarica Wireless Non ha il lettore Sotto lo schermo Ma capite che I motivi per scegliere questo Piuttosto di un Mi 10 Non sono pochi Come dicevo all'inizio Xiaomi Non so se devo augurarmi Di che Xiaomi Possa smettere Ho chiesto a Xiaomi Di rallentare All'inizio di questo video Perché Ormai tutti i prodotti Loro che provo All'interno del loro range Di prezzo Sono degli smartphone Eccezionali Non sono perfetti L'interfaccia Non piace magari a tutti E questa forse È la salvezza In questo momento Per la concorrenza Che però Si dovrà indubbiamente Impegnare Moltissimo Per tenere testa A Xiaomi Se questa recensione Vi è piaciuta Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Delle notifiche Un saluto Da Emanuele Cisotti Per Android World Punto it Emanuele Cisotti Emanuele Cisotti Emanuele Cisotti Emanuele Cisotti